Ciao a tutti amici, oggi apriremo una YouTube Blind Bag Possiamo trovare dentro questa Blind Bag comune, raro, ultra raro e piccolo e leggendario Adesso, come vedete, c'è scritto tagliamo e vediamo Vediamo cosa ci sarà dentro E che rarità toveremo di pacchi Ok, allora abbiamo un leggendario, un epico, un raro e un ultra raro Cominciamo dall'epico, dai mi ispiro Vediamo cosa ci sarà nell'epico Oh, una bellissima cover di YouTube Passiamo all'ultra raro Oh, vediamo cosa ci sarà Ci sono degli sticker di YouTube Aspetta che ne ho lasciato uno Un video con scritto iscrivetevi perché vi dovete iscrivere al canale Dovete pure mettere un bel pollicione, un bel like Poi abbiamo un golden bottom Un'immagine di YouTube E una scritta Passiamo con raro Mi ispira Uno squishy E l'ultimo che è il leggendario, quello più bello Con la rarità maggiore è Un YouTube play bottom Ragazzi mi raccomando Iscrivetevi perché dovete arrivare a Mille iscritti Ciao E commentate che Blinbag vorrete vedere spacchettare Ciao